Buongiorno carissimi e ben ritrovati in questo giovedì della quarta settimana di Pasqua. Oggi nella nostra diocesi di Pescara Penne è una festa, quella che viviamo, perché è la festa di San Massimo Martire e patrono insieme a San Cetteo della nostra diocesi. Pertanto la liturgia della parola che ci viene proposta dal proprio diocesano è un po' differente dalle letture che forse avete già ascoltato e avete letto per la liturgia di oggi. Perché la prima lettura è tratta dall'Apocalisse siamo al capitolo 12 versetti 10 e 12 e la lettura del Vangelo è presa da Giovanni, siamo al capitolo 12 versetti 24 e 26. Bene, comunque la parola che vorrei oggi proporvi è vittoria. Perché? Perché chi è colui che vince? Quando penso ad un atleta che vince una gara, quindi sale sul podio della vittoria, il suo essere lì non è il frutto soltanto delle sue abilità, perché qualcuno glielo ha dovuto insegnare. Quando per esempio anche uno studente riesce a risolvere un problema matematico non è soltanto perché ha le sue capacità intellettive, ci mancherebbe, ma perché c'è stato un maestro, un professore che gli ha insegnato i rudimenti della matematica e quindi alcune regole da osservare. Bene, allora il martire è colui che vince, che sale sul podio della vittoria, ma su quel podio della vittoria, quel podio della santità, non ci sale da solo ovviamente, non è il frutto della sua bravura, ma del maestro che ha seguito, che è il Cristo Signore. Ecco allora perché già nel libro dell'Apocalisse si parla di un accusatore che è stato precipitato. Questo accusatore che accusava i fratelli davanti a Dio è stato precipitato, in virtù di che cosa? Per mezzo del sangue dell'agnello, questa testimonianza di Cristo che fino in fondo ha vissuto il bene, ha saputo ripagare il male con il bene. Ecco allora come si fa a vincere, guardando a Cristo Signore. Nel Vangelo di oggi, per esempio, ci parla del chicco di frumento. Se il chicco di frumento non cade a terra e non muore, non produce frutto. Questi fiori che ho dietro di me, molto belli, vengono da un seme, un seme caduto a terra che è morto e marcito e da questo seme è uscito fuori la bellezza che riuscite, è uscita fuori la bellezza che riuscite a vedere dietro di me. Ecco allora, noi siamo chiamati a vincere nella nostra vita, ma non spadroneggiando gli uni sugli altri. La vittoria è nel Signore, è immergerci nel Cristo, essere vittoriosi perché il Cristo ci aiuta a vivere le situazioni della vita. Anche allora il male che ci può stare attorno lo vinceremo con il bene che ci viene dal Signore, perché Lui è il nostro testimone, testimoni di vita. Con le opere e quelle parole il Signore ci ha fatto comprendere e vedere come è possibile un'altra vita, un altro modo di vivere oggettivamente. Ecco allora il versetto del Salmo responsoriale di oggi è il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il nostro aiuto è nel Signore, quindi mi auguro e vi auguro di poter vivere una santa giornata nella bellezza della natura che ci circonda, nella bellezza di Dio che parla ancora la nostra vita e ci viene incontro in quella bellezza che siamo noi, perché creata le sue immagini e somiglianze. Allora facciamo morire quella parte che è del peccato, quella parte non buona in noi, facciamola morire nella terra che ci accoglie, che è la terra che è il Cristo, che ci aiuta a far morire il peccato e per risorgere a vita nuova. E allora saliremo anche noi sul podio della vittoria, saremo dei vincenti, vincitori, non perché abbiamo delle nostre qualità e attitudini solo e soltanto per quelle, ma perché se siamo lì sopra è perché qualcuno ci ha estradato e perché qualcuno ci ha aiutato. Buona festa di San Massimo a tutti, il martirio è per ogni giorno, anche se non viviamo il martirio del sangue perché non versiamo il nostro sangue, nessuno ci uccide a causa della fede, è un martirio perché non veniamo presi in considerazione, perché il nostro parlare di Gesù non è accettato, è un continuo martirio, ma lo viviamo con colui che è grazia e il Signore. Buona festa di San Massimo di nuovo e tanti auguri di buono nomastico a coloro che portano questo splendido nome. Buona giornata.